Ragazzuoli, benvenuti su questo nuovissimo video e prima ragazzi di partire con questo video volevo fare una breve introduzione a una nuova offerta per quanto riguarda un pacchetto direttamente da parte di NVIDIA In sostanza ragazzi se voi da adesso fino al 29 gennaio decidiate di acquistare una scheda video NVIDIA di Asus ROG quindi ci devo anche specificare ragazzi le schede video GTX e non RTX quindi mi riferisco alle 1060, 1070 e 1080 avrete accesso anche a un codice promozionale che vi permetterà di sbloccare queste skin e comunque tutto quello che vedete appunto su questo schermo quindi la skin maschile con lo zaino, il piccone, il paragatute e anche i 2000 v-back questo ragazzi ovviamente io l'ho già sbloccato infatti ora andremo a vedere anche insieme su Fortnite questo pacchetto che ho sbloccato e vi lascio qui sotto in descrizione ragazzi su questo video il primo link utile che è appunto il link di ROG dove comunque potete vedere tutte le schede video che sono appunto in vendita e vi ricordo ragazzi che questo pacchetto si sblocca soltanto con le schede video GTX e non RTX e poi vi lascerò anche un secondo link che è appunto il link per questa pagina NVIDIA per avere comunque maggiori informazioni riguardo questo pacchetto detto questo ragazzi ora andiamo a vedere questo pacchetto direttamente su Fortnite perché onestamente ho aperto Fortnite, ho messo il codice e non ho visto nient'altro quindi sono qui per scoprirlo insieme a voi onestamente quindi andiamo subito a vedere ragazzi di che cosa si tratta ovviamente ci sta la skin maschile che abbiamo visto già nell'anteprima comunque del sito ci sta appare la caduta che è molto figo anche i colori sono molto belli il piccone comunque è anche caruccio ma è una cosa abbastanza semplice lo zainetto e 2000 di V-Buck ragazzi che ai V-Buck voi come sapete benissimo anche da me non si rifiutano mai i V-Buck ragazzi sono top un'altra skin leggendaria in arrivo molto presto quindi nulla ragazzi ora vi faccio vedere comunque anche la skin direttamente da qui questa è la skin maschile poi abbiamo lo zainetto questo dovrebbe essere il piccone e questo invece è il paracaduta che fa rumore anche abbastanza figo quindi nulla ragazzi questa è la skin questo è il pacchetto sbloccare anche a 2000 di V-Buck vi lascio il link in descrizione da 10 in occhiata e niente ragazzi quindi godetevi il video peace bella ragazzi e ragazze se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente basterà andare su item shop supporto a un creatore e scrivere il nome di Croatomist accettare e il gioco sarà fatto ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi buona visione e un quarto io ne ho due vado al motello io ne ho due pensa io sono così bello che muoio adesso a parte questo no sono così bello tutto sotto controllo finisci ah niente finisci devi mettere il giacchettino donna e bacca se no non resisti adesso eh si che ah no stavo dicendo oh 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 voleva il figo ma il figo di che ma sta a pegarmo no allora se mi boosti se mi boosti cioè se mi boosti nel senso se tryhardi in questo senso fai fare l'agonamento a due persone sul mio canale cazzo vuoi continuare la partita ma 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 non lo vuoi no no sto scherzando l'hai visti ti hanno aggiunto il cecchino nuovo foda roba niente che scarsa che scarsa aia alma Che progame Martina mi stai vedendo in live un attimo? Sì Ma la leva aperta Mamma mia com'è Come come pupa che ecco ragazzi Demonio Ma Ho due Dove stanno questi due? Oh dove stanno li vedo Eccolo dove? Eccolo Pinti c'è Pinti c'è Amore più afferri Vicino Carbele Finissimo E poi c'è andato Biffi, Duka? Ammada Vicinissimo alle schede E' un sacrovato misto Eh vabbè, niente andato Luca ci ha azzeccato Corri, corri Non potete liberare il cappello dalla spike 320 Ah, mamma mia C'erano cavo, mamma mia Yikes C'erano 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 a bello che sono andato si piacciono che ti compra quello della CP company sono andate via ci sarò di un altro collettino a domani infasciarai adesso mi stai odiando a domani infasciarai a domani infasciarai a domani infasciarai madonna è chiaro dai concentra di me non vi ha interessato oh giuda è scevagliaccio tu sa questa qua sotto ma you cannot allora se questa la ricarichi sul canale anzi non ti do il permesso di ricaricare dove la mia tirotto dove dove la mia tirotto che ecco